Facendo questo progetto da 25 anni vedo che generalmente in teatro si scelgono dei testi già rotati, mentre invece c'è sempre tanta difficoltà per i nuovi autori di mettersi in luce e di mostrare quello che sanno fare mettendo in scena. Vogliono a volte la commedia del grande nome dell'Ottocento, del Novecento e finisce lì, mentre invece proporsi con dei nuovi testi è sempre più difficile, quasi impossibile se vogliamo. E' ovvio che qui al Cilea se viene un personaggio napoletano e mette in scena una pièce tutta napoletana, sicuramente il pubblico riderà di più perché vengono toccati gli usi e i costumi. Mettendo in scena un qualcosa di italiano la gente ride lo stesso, cioè il pubblico ci sta al gioco del teatro. Guarda, noi terminiamo qui, terminiamo questo tour che è iniziato a noi. Poi io ho una band da 18 anni e vado in giro a fare serate un po' in tutta Italia. E poi ripensiamo al prossimo anno, sicuramente porteremo in giro questo spettacolo, se c'è una nuova primavera per la cultura italiana. E chi può dirlo? Bisognerebbe chiederlo al nuovo governo. Se il nuovo governo stanzierà dei nuovi fondi e darà modo alla cultura di esprimersi, forse sì, ma questo ancora non lo sappiamo. Salve, sono Stefano Masciarelli e anche io guardo iSud. Dice perché? Perché sono suddista, appunto dico. Ciao! 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 Ciao!